Diamo il benvenuto a Roberto Grossi, vice direttore generale di Etica SGR, al quale vogliamo chiedere un po' com'è iniziato questo 2019, dato che ormai siamo qualche mese avanti, e parallelamente come interpreta il tema della sostenibilità Etica SGR. Sì, buongiorno. Diciamo che l'anno è iniziato molto bene, diciamo che Etica è in raccolta positiva su tutti sostanzialmente i prodotti della gamma, peraltro alla fine del 2018 abbiamo lanciato anche un nuovo prodotto dedicato al tema della sostenibilità ambientale in particolar modo, Etica Impatto Clima, che sta conseguendo un ottimo successo, abbiamo già superato gli 80 milioni di raccolta in soli 4 mesi, quindi non ci possiamo lamentare e il fatto che la raccolta stia andando bene ci dà sicuramente una conferma del fatto che il tema della sostenibilità, dell'investimento etico e responsabile è un tema che sta diventando, come si suol dire, mainstream, dominante o comunque di grande attualità. Nella dimostrazione sicuramente il salone di oggi, diciamo che per Etica possiamo vantare un track record di tutto rispetto, nel senso che per noi è una mission, noi siamo l'unica società di gestione di risparmio italiana a essere concentrata esclusivamente sulla tematica della finanza etica e sostenibile e nella nostra mission, nel nostro DNA facciamo prodotti esclusivamente sostenibili e responsabili e lo facciamo peraltro da 20 anni. Quindi siamo contenti evidentemente che questa tematica abbia oggi questo grande interesse da parte di tutte le fasce di clientela, dal piccolo esprimitore ai grandi clienti istituzionali, ma siamo anche convinti che chi come noi ha una storia di 20 anni da raccontare abbiamo magari anche un piccolo vantaggio rispetto agli altri.